benvenuti o bentornati sul canale tpc lives io sono polle e oggi continueremo zombie soap continua allora ricapitolando siamo al secondo piano dell'hotel di henry abbiamo sconvitto il primo boss lo schiaffeggiatore pazzo junior adesso in teoria dovremmo trovare gli altri e aiutarli praticamente ashley e lisa la moglie di henry ok spacchiamo un pochino qua tutto questa è la stanza del boss che non c'è più si vola andiamo ma questi sono respawnati però non va bene ok stanza pulita allora di là c'è gente ma tanto solamente la possiamo andare quindi regoliamo la zona o il bazooka pistola speciale lasciata dai nemici premi cambi arma per cambiare tra pistola speciale e arma principale ok ci abbiamo il bazooka boys adesso sì che si ragiona let's go let's go ottimo prendiamo altre munizioni per il bazooka facciamolo fuori cioè il bazooka è clamoroso amo 220 ok ok abbiamo ripulito anche qua mangia un burrito ottimo vediamo un attimo quassù e qui c'è un po di gente però col bazooka easy molto easy o merda guardiamo la pistola guardiamo la pistola non sprechiamo munizioni del bazooka spacchiamo un attimo qua non c'è niente diamo un attimo sopra ops qui saliamo saliamo al terzo piano ok non sprechiamo per il momento il bazooka ce lo teniamo per il boss per un eventuale boss diamo di pistolina easy ok perfetto perfetto spacchiamo qua non troviamo niente va bene ok proseguiamo apri devo tirare fuori il bazooka devo tirare fuori il bazooka boys oh quanto è più easy così dammi le munizie dammi le munizie per il bazooka ok ragazzi spacchiamo un attimo lì apri qui oh porca eh ma quanto è facile col bazooka quanto è facile che abbiamo qua niente niente spacchiamo tutte tutte le sedie ma non ci troppa nulla va bene ok spaccato all'ultima let's go quindi di qua troppo facile troppo facile troppo facile con il bazooka ok andiamo di qua allora sopra vita extra ci abbiamo una nuova armetta qui electro vediamola ah non male ma forse ragazzi io continuerei col bazooka oppure no dai prendiamo l'electro ok allora qui ancora si sale di sotto vediamo un attimino di sotto occhio qui occhio ops raccoglie oh eccolo qua oggetto da collezione trovato cubo di rubik che si aggiunge la nostra polaroid 600 che abbiamo preso nello scorso episodio let's go ok quindi niente praticamente qua ci dava sola oh 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 e dai no non moriamo così qua praticamente ci da il secondo collezionabile dobbiamo trovare assolutamente un frigorifero per recuperare un po' di vita ok si sale ancora vediamo che piano che piano stiamo non me lo dice ok ah piano 4 ok spostiamo sta cassa ok 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 è fatto fuori che c'ha niente eh ok vediamo un attimo da qua no questo non lo possiamo spostare facciamo una cosa tiriamo questa tiriamo questa tiriamo questa spingiamo questa spingiamo questa ok ok one shot ah è a calamita proprio sta sto electro clamoroso granate piene ok è passato anche qui no ah ok abbiamo sulla porta apri apri tutti se apriamo di qua stanza segreta stanza bonus refill di granate qui c'è questo orologino un po' strano ma non ci da nulla quindi ritorniamo qui andiamo avanti spacchiamo tutto boys uno abbiamo abbiamo finito le munizie per l'electro siamo di nuovo con la pistola mangiamo un po' di granate così spariamo qua ottimo rifiliamo le granate mangiamo un bel burritos recuperiamo che cos'è? ah ok c'è una porta c'è una porta lì e c'è un'altra porta qua vediamo prima qua ah ecco qua questa non ci voleva qui col bazooka era molto easy però ci abbiamo ancora le nostre amatissime grane e le lanciamo tutte molto bene molto molto bene ok ripulito l'area vediamo se c'è qualcosina di buono da raccogliere ma non mi pare niente torniamo su e ci facciamo la stanza qui avanti quanto era comodo il bazooka fermi tutti boys ci abbiamo qualcosa di nuovo oh 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 si si fuochi d'artificio ah ma già è finita già è finita si sale ancora qui ancora si sale ottimo piano 5 quinto piano quinto piano quinto piano quinto piano allora qui si scende ottimo io direi di ripulire questa zona con la pistola e facciamo venire da noi ok ok nel mentre raccogliamo un po' di monete oh la spara chiodi ok allora vediamo un attimo qui ah qui c'è il frigorifero mangia un burrito si apri intanto salviamo qua ottimo qui dice schiaffeggiatore pazzo junior di nuovo di nuovo di nuovo lui però non non ce lo fa fare andiamo avanti stanza del boss raccogli ok oggetto della collezione trovato la radio vai c'è un altro mostro boss lì dentro sono pronto per entrare certo che si forza mostro sempre lui schiaffeggiatore pazzo junior sempre lui stavolta con la spara chiodi granatine ah però è più forte dell'altra volta eh no che non mi becchi abbiamo ancora 12 12 ammo ok finite ottimo non abbiamo granate peccato o vita non mi ricordo l'arma da mischia come si faceva è tos è tos è tos schivate tutte che ci abbiamo qua granate ottimo è tos è tos è tos è tos grana quanto era comodo il bazooka qua quanto era comodo il bazooka qua non hai più granate è tos 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 oh abbiamo repellato le granate sta facendo la ulti oh non ho capito perché è sempre lui come boss oh non dobbiamo morire è tos è tos è tos però con le granate ogni tanto lo blocchiamo tipo lo stunna per qualche secondo ecco fa la sua mossa ok non facciamolo incazzare da però con la pistola refillami le granate oh questa non ho vista mai via oh 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 ma che super mossa siamo per morire boys non ci siamo ricarica un po' di vita qualcosa non lo so granate qualcosa sto per morire ci fa molto male questa volta ci ha nienta c'è nienta c'è nienta impegnativo da millegrani si è incazzato si è arrabbiato si è arrabbiato poca vita poca vita poca vita ci abbiamo poca vita oh non va giù non va giù non va giù non va giù oh certo con la pistola ma dammi il bazooka no dammi il bazooka che faccio il panico ci abbiamo poca vita ci abbiamo poca vita si è arrabbiato si è arrabbiato ricarica veloce due colpetti oh è quasi a terra no no non mi devi sparare cavolo non mollare che abbiamo fatto ah l'abbiamo ucciso easy easy classe carabina classe sbloccato rifo let's go raccogliamo tutto può sfidare di nuovo no assolutamente no yeah ci ha quasi buttato a terra allora qui niente vediamo di qua ah lì c'è gente vabbè spacchiamo un attimino oh si raccogli la sparachiodi oh finalmente un'armetta più decente vai con la sparachiodi va electro si allora c'è il frigo c'è il frigo ma non dobbiamo salvare quindi niente andiamo giù seguiamo a salute granate e refill abbiamo fatto tutto ottimo abbiamo ripulito anche qui andiamo avanti ah qui si sale ancora sposta la cassa chissà perché le dobbiamo cioè voglio vedere se c'è qualcosa sotto le casse ma non mi sembra ok si sale ancora sesto piano piano 6 ok ripuliamo così con l'electro salute massima quindi abbiamo spaccato di nuovo schiaffeggiatore pazzo junior di nuovo stavolta era più forte refill di granate pieno qualche collezionabile qui niente bevi birra oh no come ecco alla oh è questo chi sei ehi amico stai cercando di superare questa porta si proprio così chi sei e cosa ci fai qui questo posto non è sicuro il mio nome è Prenky il mio nome è Prenky ho chiuso a chiave la porta in modo da poter tenere quei cosi fuori Harry mi ha detto di controllare gli altri piani per altra gente in pericolo Harry sa davvero come dare ordine alle persone mi ha detto di restare qui e fare la guardia a questa porta mi dai la chiave dipende puoi farmi un favore che cos'è aiutami a trovare il mio fumetto dovrebbe essere da qualche parte sotto questo piano neanche per sogno perché non vai a cercartelo da solo sei pazzo non voglio rischiare la vita sembra che tu te la stia cavando bene da solo dai aiutami per favore non sono così sicuro nemmeno per la chiave della porta perché dovrei fidarvi di te diciamo che ti darò qualcosa di speciale come extra cos'è questo qualcosa di speciale che stai suggerendo? metto dentro anche un'arma speciale che ho rubato dall'arsenale di Henry non è molto utile a me in ogni caso affare fatto? e facciamo questo affare affare fatto allora lui cerca un fumetto al piano di sotto ok vediamo un attimino ah qui c'ha la chiave lui ok quindi direi di tornare al piano di sotto e cercare il suo fumetto e dove l'ha lasciato questo fumetto scendiamo ah forse sulle casse lì al piano di sotto quindi qui dovrebbe stare al piano quinto al quinto piano questo è il quinto sì sicuramente qualcosa con queste casse c'è da fare qualcosa con queste casse e se no che ce ne hanno messe a fare qua che non capisco però granate piene non so se queste casse oh il bazzuga bellissimo allora stanza del boss ma quale piano c'è il fumetto come faccio a trovare il fumetto? come faccio a trovare il suo fumetto? su questo piano qui abbiamo ucciso il boss non sta qua sei fuori? colpisci? all'electro mangia un burrito facciamo riposa così riprendiamo vita ah però rispawnano tutti stiamo facendo un sacco di soldi dobbiamo trovare il fumetto allora allora qui si scende ancora però da quello che ci ha detto lui al piano di sotto mangia un burrito apriamo di qua ok sparachiodi questa è la stessa stanza di prima del boss quindi qui niente di qua c'è il frigo qua andiamo giù ok e no niente secondo me o dobbiamo tornare giù proprio non so dove dove sta questo fumetto vai con la sparachiodi qui si scende basta aspetta oh fatemi entrare facciamo un burritino recuperiamo salute ok ripulito refill granate pieno allora sopra vai di granate vai di granate vai di granate allora quella porta dove porta vabbè complimenti bravo complimenti eh però riprendiamo la sparachiodi incollalo al muro è l'elettro vai di elettro ok vai ritorniamo su e dai questa porta c'è non c'è traccia di quel subito andiamo giù poi c'è c'è niente qua andiamo giù c'è niente adesso perché per terra vedo molte molte pagine di qualcosa cioè dai uccidiamo anche lui scendiamo ancora giù piano 3 terzo piano c'è qualcosa qui forse è il suo fumetto però ha detto che ci dà un'arma potentissima e un qualcosa di speciale ok allora entriamo qua aspetta apriamo i soldi apriamo qua ok ripulito anche qua una zona se andiamo qui oh eccolo qua il fumetto si si vedeva da fuori si vedeva boys vai ripuliamo andiamo sopra let's go e com'è che non abbiamo fatto prima questa stanza eccolo qua il fumetto preso preso ritorniamo da lui dai piani sveriori ok no no dai torniamo sopra oh ancora qui stegas dai ma di nuovo bisogna farli tutti granatina che ci dai oh il bazooka si si che ci piace il bazooka si ok mangia si col bazooka ma come osi teniamo il bazooka va vai si sale lui stava al sesto piano se mi sbaglio questo è il quinto spara chiodi vediamo di qua ah qui c'è il frigo mangio un burrito inchiodiamo al muro un burrito dov'è il nostro amico? vai sali ah ok ci siamo sesto piano il nostro corso gratuito www.mesmerism.info sparachiodi abbiamo finito le munizie per la sparachiodi ci beviamo la birra di nuovo come prima con sportiveggianza andiamo su dal nostro caro amico pranky stupendo sapevo che li avresti trovati tutti dovresti essere un po più responsabile e prenderti cura delle tue cose nessuno ti aiuterà la prossima volta ok mamma sei davvero fastidioso tu non puoi farci proprio niente va bene ora passami la chiave e quell'arma speciale che avevi promesso sì sì ecco la chiave e oh dovrai trovare l'arma in una delle stanze di questo piano che cosa scusa idiota ho opportunatamente dimenticato dove l'avevo lasciata divertiti a trovarlo sfigato ci vediamo ma sì in questa stanza non credo proprio che ce l'ha lasciata però richiesto chiave di pranky ok continuiamo il nostro percorso vai un pieno oh vita io direi di spostarle queste casse non si sa mai ah beh e qui no no la cassa bisogna tirarla nel buco ok ottimo andiamo di qua e c'è la sparachiodi chissà se era questa allarma ma non credo proprio andiamo giù e qui spaccato tutto allora dicevamo ok qui eravamo andati vediamo di qua che è la stessa di prima quindi sì allora qui ragazzi abbiamo solamente due casse quindi faremo così poi e sposteremo un'altra qua per avere un bel passaggio si sale ancora ma quanti piani è settimo piano ah eccole qua ashley e lisa ricky sono contenta che tu stia bene come avete fatto ad arrivare tutte e due qui così in fretta harry ha attivato gli ascensori e ci ha portati qui è ancora al piano di sotto? è in pericolo? no è andato di sopra per assicurarsi che ci fosse via libera prima oh sono sicuro che troverà molti dei miei ragazzi ad aspettarlo per salutarlo dovrei andare a cercarlo e vedere se ha bisogno di aiuto e intanto loro se ne vanno ok andiamo di sopra e beh ti pareva che me lasciano da solo però c'ho la mia spara chiodi li incolliamo al muro let's go bevi la birra grazie mangi amburrito bevi la birra e si vola allora qui che ci abbiamo oggetto da collezione trovato walkman ok si sta sotto il bagno ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai con la sparachiodi. Let's go. Incolla lì al muro. Aspetta, abbiamo un'altra cassa qui. C'era una stanza qui. Chi è lei? Ah, Henry. Ehi ragazzo, sembra che te la cavi bene lì. Anche tu sembri reggere bene. Non tanto per il mio bar, però puoi farmi un favore. Ah, dai, io vestico i favori. Torna all'ingresso e liberami da alcuni zombie. Il bar non può resistere ancora a lungo. Presto sarà fatto a pezzi da quelle cose. Ci sto lavorando. Qui usa il frigorifero. Ha anche un portale integrato che ti consente di viaggiare tra i frigoriferi che hai già aperto in precedenza. È strano, lo so, ma funziona. Puoi tornare in quel frigorifero fuori e puoi ritornare di nuovo qui una volta che hai finito. Ok, sul serio? Sì, seriamente. È anche un deposito di armi che ti consente di scambiare il tuo equipaggiamento e, naturalmente, del cibo per riprenderti. Ora, frettati. Let's go. Allora, tutorial viaggia. Puoi spostarti velocemente usando il frigorifero e selezionando l'opzione viaggia. Seleziona la zona in cui desideri viaggiare. Quindi seleziona la località verso cui desideri viaggiare. Ottimo. Viaggio. Bardi Henry. Posizione. Proviamo posizione 1. Let's go. Siamo fuori. Completa la sfida fuori dal bar. Apri. Vediamo se... No. Ah sì, caricamento. Usiamo la classe carabina. Allora, boys. Abbiamo potenziato con tutti per classe carabina e ora la andiamo a provare. Puoi uscire a salvare equipaggiamento? Sì. Attiva la sfida. Macchina delle sfide. La macchina delle sfide ti assegnerà una sfida casuale. Dopo aver completato con successo l'obiettivo verrà sbloccata una nuova arma. Sì. Accetti la sfida. Sì. Questa è la desert eagle. 12 mostri. Abbiamo la sparachiodi. Ma quanto è più facile con la carabina? Però ci mette un po' a ricaricare. Sfida completata. Easy. Clap. Desert eagle. Ok. Tornata Henry. Frigorifero. Viaggio. Bardi Henry. Posizione 4. Let's go. Ottavo piano. Parla. Ottimo lavoro ragazzo. Ora non resta che liberare anche i piani superiori. Qui prendi questa chiave per il magazzino sul tetto e assicurati che le forniture siano al sicuro. Amico, penso di meritare un drink dopo questo. Sei un ragazzo divertente. Continua. Interrò le ragazze qui al sicuro. Non stavo scherzando. Rigidi sul tetto. Allora, mangio un burrito. C'è qualche vita qui. No? Ok. Andiamo sul tetto con la nostra carabina. Finalmente. Allora, sposta qui. Ci creiamo la strada per passare. Ok. E vai di carabina. Ci mette un po' a ricaricare, però è una bomba. Let's go. Ah, ok. Ci ha dato la chiave per passare qui sul tetto. Vai. Siamo al nono piano, signori. Se volete vedere come va a finire sul tetto, lasciate un like, condividete, mi piacete. E ci vediamo alla prossima. Let's go.